Le fotografie esposte in questo pannello sono state realizzate con la tecnica del light painting, tecnica che consiste nello scattare fotografie al buio totale, illuminando i soggetti con una pila utilizzata come un pennello per applicare pennellate di luce al soggetto e dallo sfondo. Le quattro immagini rappresentano i temi che sono stati e sono tuttora trattati quotidianamente dai media e che hanno destato in tutti noi grande preoccupazione in questo triennio, ovvero il riscaldamento globale e la crisi climatica, la drammatica guerra in Ucraina, la pandemia, le sue origini e il controverso tema dei suoi vaccini. In questo pannello presento alcune nature morte realizzate con la tecnica del light painting, tecnica che ho utilizzato anche per le fotografie del pannello precedente. Ho cercato di ritrarre oggetti e frutti cercando di ricreare lo stile e le atmosfere dei pittori fiamminghi del Seicento. Le due fotografie in questo pannello sono state realizzate in studio in luce artificiale. Ho voluto evidenziare la bellezza e l'armonia della ballerina ispirandomi alle atmosfere di Degas. Le fotografie di questo pannello sono un mio personale omaggio alle donne. Sono immagini ispirate alla creatività e dal mistero, alla bellezza e alla sensualità, alla poesia e alla forza dell'universo femminile. Le foto sono state realizzate in studio in luce artificiale.